Da domani si comincia a fare sul serio, non è più tempo infatti di amichevoli in quanto batta le porte alla prima fase di Coppa Italia con le gare di andata della manifestazione che vede il cittadino ragusa esordire sul campo del Caltagirone. Partita però a porte chiuse stante l'ineagibilità dello stadio calatino. Ragiti non dovrebbe avere problemi di formazione potendo contare anche su qualche nuovo innesto e nonostante le recenti amichevoli non abbiano sorriso al tecnico, domani dovrebbe essere un'altra storia. Si pensa infatti che con una qualificazione in palio le cose possono e debbano migliorare con la squadra che segue alla lettera l'indicazione del tecnico e domani si dovrebbe vedere quindi il vero ragusa, fermo restando che il mercato è ancora vivo e che il direttore sportivo Pluchino potrebbe quanto prima chiudere per un difensore centrale e un attaccante. Intanto per la prima volta dopo anni di partecipazione alla Coppa il vittore è fuori, un vittore che l'ha anche vinto in ben tre edizioni, l'ultima nel 2011 allicata contro l'Alcomo e che oggi invece costretta a guardare. Nulla si muove, nessun imprenditore o cordate che abbia a cuore le sorti del calcio in città, tutto al contrario di Ragusa dove sono spuntati invece professionisti, accessori, imprenditori e persino due bancari per collaborare al rilancio della società, due realtà che restano alla fine divise e lontane, diverse anche nella cultura sportiva.